vi faccio vedere una tecnica che può essere utilizzata al posto del magic loop per l'avvio dei calzini in pratica della punta o comunque di un lavoro che si lavora su entrambi i lati quindi come appunto la punta dei calzini questo qui si chiama judy's magic cast on allora lasciamo un codino abbastanza lungo per riprendere alcune maglie ovviamente la punta del nostro lavoro non sarà tanto larga quindi non serve tanto perché partiremo sempre da un lavoro stretto e lo lavoriamo così facciamo un cappio e mettiamo lo mettiamo sopra il ferro e sopra abbiamo il codino quindi il codino va sopra prendiamo l'altro ferro e lo mettiamo così a fianco del primo ferro e li teniamo insieme con la mano destra in modo che sopra teniamo in mano i due filati così in modo che sopra ci sia il codino e sotto il gomitolo quindi teniamo in tirare il filo e adesso caricheremo una maglia nel ferro di sopra e una nel ferro di sotto alternativamente utilizzando il filo che è sopra per il ferro di sotto e il filo che è sotto per il ferro di sopra quindi adesso dobbiamo caricare la prima sul ferro di sotto quindi vedete entriamo in pratica tiriamo sui ferri e carichiamo questa prima maglia sopra il ferro passando vedete da dietro e entrando al centro per caricare quella sopra utilizzeremo il ferro di sotto sempre passando da dietro quindi e passiamo da sopra in mezzo ecco qua semplice così una volta presa la mano è semplicissimo adesso sotto quindi il ferro di sopra sempre passando da dietro al centro adesso sopra passando da dietro da sopra al centro ecco caricato un'altra maglia quindi lavoreremo in questo modo alternativamente per caricare le maglie per riconoscere l'ultima fatta vedete si vede bene perché è l'ultima maglia è sotto quindi adesso dovrò utilizzare il filato di sopra per fare la maglia di sotto quindi è difficile sbagliare adesso vedete o il filato questo quindi devo caricare con quest'altro quindi sempre passando dietro e da sopra al centro carichiamo le maglie ecco qua quindi per per tutto il lavoro per quante maglie dobbiamo caricare con il nostro lavoro faremo così una volta sopra e una volta sotto una volta sopra e una volta sotto vedete sempre alternando i due fili quindi quello sopra si farà col filo che è sotto e quello sotto col filo che è sopra ecco qua in questo modo carichiamo il numero di maglie che ci servono e vedete questo è come si presenterà il dietro del lavoro vedete abbiamo già queste maglie intrecciate così che poi saranno il rovescio del nostro lavoro vedete mentre il sopra verrà veramente un lavoro pulito quindi adesso vi faccio vedere come lavorarlo allora l'ultimo punto dovrà essere fatto sul ferro di sotto perché siamo partiti dal ferro di sopra dove avevamo il nostro cappio quindi li contate infatti vedete due quattro sei sette e anche sotto ne abbiamo sette quindi l'ultimo punto dovrà essere fatto sul ferro di sotto quindi fatto il numero di maglie che servano per il nostro lavoro questa sarà la larghezza della nostra punta a seconda dello schema che avete appunto arrivate a caricare le maglie che servano girate poi il lavoro in modo che sia il contrario di come era prima questo è il codino lo mettiamo che non dia noi lo tiriamo indietro e tiriamo vedete verso l'alto il filo che va al gomitolo che sarà qua al centro vedete di queste maglie quindi ricordatevi di ruotare il lavoro le abbiamo caricate con le punte verso sinistra adesso per la lavorazione avremo le punte verso destra quindi il codino lo tiriamo indietro così e tiriamo il filo sul dietro del lavoro in questo modo lo teniamo dietro sfiliamo il ferro di sotto e lavoriamo vedete a dritto il primo giro quindi questa prima metà la lavoriamo come con il magic loop perché adesso una volta caricata caricate le maglie poi sono come con il magic loop vedete quindi si lavora questa prima metà del ferro la prima metà quindi questo sarà il giro diciamo numero uno del nostro lavoro metà del giro numero uno poi giriamo nuovamente il lavoro in modo che il ferro appena lavorato sia verso di noi e infiliamo il ferro questo nelle maglie che erano rimaste e questa lavorazione sarà un po' diversa la prima volta che la faremo fate attenzione al codino sempre quando girate il lavoro che non vi entri in mezzo che rischiate di fare delle maglie in più quindi adesso sfiliamo vedete il ferro viene dall'ultima maglia di quello che deve essere di sotto e che lo sfiliamo e lo tiriamo verso l'alto allora la prima maglia vedete è il nodo di avvio il cappio di avvio quindi la lavoriamo perché lavoriamo anche questa di avvio quindi diventerà una normale maglia quindi questa la lavoriamo normalmente a dritto le altre maglie che abbiamo caricato sono tutte girate vedete sono al contrario normalmente le maglie quando noi le lavoriamo dovrebbero presentarsi così cioè con davanti noi dobbiamo entrare vedete in questo modo e avendo diciamo il lato destro della maglia davanti al ferro così invece si presentano tutte al contrario cioè così vedete se noi le dobbiamo lavorare vedete si girerebbe la maglia faremo una maglia ritorta e non va fatta per avere un lavoro pulito quindi le dovremmo lavorare al contrario cioè a dritto ritorto in pratica entrando quindi da dietro e facciamo un dritto vedete lavorandole così tornano a dirizzarsi quindi il primo giro solo questo sarà fatto in questo modo quindi entrando da dietro vedete le lavoriamo entrando prendendole al contrario entrando da dietro ecco qua e questo è la fine del primo giro e questo è quello che si presenta il resto lo lavoreremo sempre come lavoriamo anche il magic loop quindi rimetteremo giriamo il lavoro in modo che quello appena lavorato sia sotto e rinfiliamo il ferro fate sempre attenzione a non far cedere le maglie laterali vedete si rientrerà sempre un po male poi adesso ho dei ferri un pochino grossi ancora di più con i ferri un po più sottili si sforma meno io ho utilizzato ferri grossi perché si vedesse meglio però sono un pochino più fastidiosi da utilizzare per questo tipo di lavorazione quindi sfilo adesso una volta infilato sfilo il ferro di sotto facciamo attenzione al codino vedete il codino che è qua lo tiriamo sempre indietro poi dopo più avanti con il lavoro rimarrà dentro e non ci darà più noia ma i primi giri fate attenzione a non averlo in mezzo perché vi può creare delle maglie in più quindi qui tenete sempre abbastanza in tirare questa prima maglia in modo che non si creino delle che non si allarghi ai lati perché questi saranno i lati del lavoro e ricominciamo quindi lavoriamo sempre così seguendo lo schema quindi questo sarebbe il giro numero due la prima metà perché ogni giro è fatto da due metà quindi questa metà è la prima metà del giro numero due quando abbiamo il codino verso di noi è sempre la prima metà poi arriviamo in fondo vedete e qui facciamo uguale rinfiliamo il ferro rinfiliamo il ferro sfiliamo quello sotto e continuiamo seguendo poi quello che è lo schema con quindi degli aumenti richiesti se ci saranno perché ovviamente ci saranno degli aumenti perché la punta parte sempre un po' più stretta e vedete qui in questo già secondo giro tutte le maglie si presentano giuste perché le abbiamo lavorate era solo un problema di come vengono caricate che appunto rimangono attorcigliate diciamo quindi solo il primo giro si presentano al contrario gli altri giri invece si presentano già pronte ecco qua e questo è il risultato di questo tipo di avvio che è rispetto al magic loop è più, cioè non crea perché il magic loop in realtà crea una sorta di vuoto dietro qua quando voi partite con un magic loop qui c'è come una tacchettina che per i calzini alla fine non dà assolutamente noia ma se volete fare io ad esempio ho fatto un top down partendo dal cappuccio e la prima maglia in cima è una maglia un pochino che rimane diversa sul dietro quindi qui dietro rimarrà una specie di buco diciamo con questa tecnica qui invece non c'è assolutamente nessuna differenza vedete e la lavorazione viene veramente perfetta noi adesso continueremo a lavorare questa sarà la nostra punta chiusa e il lavoro sarà in circolare ecco qua quindi questa è questa seconda tecnica per iniziare la punta dei calzini insieme al magic loop e questo è il Judas Magic Cast On insieme al magic trap una stella inizia insieme al magic loop